Bravo! Questo è un gioco divertente per tutta la famiglia! Ehi, ehi! Obladi, oblada! Due uomini e un baccalà! E io sono il baccalà! Signore, perché non vi alzate e andate a fare una pausa nella zona cucina? Smettila di ringhiare! Ti sta bene il tutù? Papà! Che c'è? Ma che cosa ingurgiti? Chesso buono! Formaggio buono, in pratica! C'è una ragione per andarsene in giro dentro un grande passeggino da bambini! Voglio fare il rimba! Vuoi fare cosa? I tre mattacchioni! Li conosci? Ti presenta quella vecchia serie della TV? Recitavano Stampi, Lampi e Joe! Oh, aspetta! Sono quei telefilm che parlano di quelle signore con un piede nella fossa! No! Bunny, falle vedere i tre mattacchioni! Sì, rimba! Ehi, tu! Dammi subito quel martello! D'accordo! Mi hai colpito sulla testa, eh? Come vorresti farmela pagare? Non lo so! Ad esempio... Come hai osato! Toc, toc! Chi è là? Irritante per gli occhi! È irritante davvero! Che avete oggi, stordini? Che cosa c'è di divertente in tre uomini che si fanno del male a vicenda? Tutto quanto! Ti candidi per interpretare quale stordito? Stampi! Stampi? Non è quello paffuto? Sì, paffuto è pelato! Ecco perché mangio il formaggio e mi faccio portare in giro col passeggino! In pratica hai ingurgiti tante calorie e non fai attività fisica? Grasso io sarò! Grasso io sarò! Grasso io sarò! Grasso io sarò! Ehi ragazzi, ciao! Ok. Ho delle novità davvero forti! Che aspetti a dirtene? Sono curiosa! D'accordo, d'accordo! Ricordate che vi ho stressati con la storia di fare della pubblicità per dare modo a più persone di conoscere la Game Shakers e i nostri giochi? Sì, ricordo! Domino! Marketing! Dunque? Ho comprato una panchina! Qualcuno vuole assaggiare? Sì, grazie! Ma... Ehi ragazzi, un momento, un momento! Avete sentito che ho detto che ho preso una panchina? Sì, ma che significa? Una panchina qui a Brooklyn vicino al vecchio negozio di VHS. È un quartiere malfamato! Ho fatto delle ricerche! Sapete quante persone cercheranno ogni giorno la panchina e ci appoggeranno le chiappe? Beh, sicuramente saranno migliaia, credetemi! Uh, il doppio se consideriamo ogni singola chiappa! È vero! È vero! E il bello è che un sacco di persone vedranno il logo della Game Shakers su quella panchina! Eh? Eh? Già! Oh! Volete vederla? No! Grazie! Ma... Non cambiate argomento! Avete del nostro isolante? Serve per la mia ascella! Andiamo a vedere quella panchina! Direi venute ragazzi, seguitemi! Dammi un po' di quella roba! Avanti! Non fare storia! Il queso buero! Dallo alla mamma! Dallo alla mamma! Dallo alla mamma! Dallo alla mamma!